Dato che per il comizio abbiamo ancora un po' di tempo, è data la sicura affermazione del nostro candidato, è bene vedere un po' il nostro programma futuro. Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie. Io ho fatto un investimento che mi deve fruttare. Ah sì? Sì. In Parlamento tre voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do-utes. Ma no. Io ti do tre voti a te e tu mi dai tre appalti a me. Ah sì? Già. E provettafugne, strade, ponti e noi ci pappiamo gli appalti. Vogliamo andare? Ma sì. Andiamo. Vieni anche tu, cara. Prego, prego. Prego, prego.